Il mondo della musica e della cultura piange la scomparsa di Ezio Bosso, direttore d'orchestra, compositore e pianista torinese, diventato uno dei nomi più noti del panorama musicale italiano nonostante la malattia neurodegenerativa di cui soffriva da tempo. Aveva 48 anni ed aveva raggiunto un'enorme popolarità nel 2016 quando poteva esibirsi e raccontare la sua storia su un palcoscenico quale quello del Festival di Sanremo. La sua carriera è particolarmente ricca e tra le ultime sue fatiche figura un omaggio a Claudio Abbado che lo vide presente a Ferrara nel gennaio 2019. Nelle giornate del 17 e del 18 di quello stesso mese infatti il maestro realizzò due giornate di prove aperte al teatro comunale della nostra città inerenti al concerto intitolato Grazie Claudio tenutosi al Teatro Manzoni di Bologna il 20 gennaio 2019. Il maestro Bosso diresse una formazione orchestrale di 50 musicisti con la partecipazione di Silvio Orlando. Pochi giorni prima la conferenza stampa in comune a Ferrara dove Ezio Bosso rilasciò a Telestense la seguente dichiarazione. Sono tutti grandi professionisti che insieme si studia io non amo uso il termine prove solo nel senso formale però nel senso più profondo per me si studia insieme ognuno ha studiato da solo e poi inizia lo studio comune una delle grandi fortune della modica e quindi pronti ancora alle nostre età a metterci in gioco e studiare. Il ruolo di un direttore è quello di illuminare chi c'è e di fare poi di quelle parti dove sono tanti insieme di renderli un gruppo e quello sarà il mio sforzo principalmente. Da quando si è seputta la notizia della sua scomparsa sono stati tanti i messaggi di cordoglio sia dai personaggi noti del mondo dell'arte della politica e dello spettacolo sia da tanti comuni cittadini e fan dell'indimenticabile compositore che aveva colpito tutti non solo per le sue capacità artistiche ma anche per la positività che trasmetteva.